Io invito sempre a dire di no, dobbiamo dire di no al Ministero, lo debbano dire i prefetti perché noi abbiamo già dato. Abbiamo già dato, abbiamo 517.000 immigrati in Veneto, li abbiamo integrati, abbiamo garantito loro un progetto di vita, oggi di questi 42.000 sono senza lavoro. Siamo una delle prime tre regioni in Italia per numero di migranti e non possiamo chiedere ai nostri cittadini di ospitare migranti sapendo già all'origine che due su tre non avranno mai lo status di riconoscimento di profugo. Il che vuol dire che il numero esatto che noi ospiteremo sarà quello che riceviamo perché poi nessuno verrà rimpatriato. Ci sono prefetti che hanno espresso un certo fastidio rispetto al Ministero, è una cosa che non è mai successa prima nella storia per cui la tensione è alta anche tra istituzioni? Direi di sì perché poi se ami la tua gente e conosci i problemi del tuo territorio ti rendi conto come in un territorio del Veneto che hai difficoltà, è oggettivo la difficoltà rispetto al lavoro dei prefetti perché poi ognuno fa il suo lavoro. Però è altrettanto vero che davanti alla difficoltà del Veneto vuol dire non riconoscere la realtà che qui di spazio non ce n'è più.